Mi ero proposto di dire qualcosa a proposito della situazione attuale, ma poi mi rendo conto che è molto difficile fare un qualsiasi discorso in un momento in cui tutti parlano di tutto e in cui poi i punti certi sono molto pochi e l'unica cosa certa è che dobbiamo evitare il contagio e che per evitare il contagio dobbiamo restare a casa e avere tutto quello che ci può avvenire in soccorso per poter restare a casa, compreso i rifornimenti alimentari soprattutto e le risorse economiche per quelli che dovendo restare a casa e vivendo prima di lavori precari o lavori autonomi dei quali vivevano giorno per giorno ormai soprattutto insomma, si trovano nel momento in cui sono costretti a rimanere a casa sprovvisti dei mezzi per comprarsi anche da mangiare e magari non hanno chi li può aiutare. Anche a questi penso che dovremmo pensare o che si dovrebbe pensare. Detto ciò io devo dire che sono d'accordo con le misure del governo che forse avrei auspicato che fossero arrivate anche prima ma so bene che non sarebbe stato possibile perché è chiaro che se si fosse chiuso tutto come adesso quando i casi erano 3, 4 e quando c'era soltanto il pericolo insomma verso gli ultimi giorni di febbraio, un po' prima magari insomma verso il 20 febbraio, 21, quando è cominciata sta roba insomma e quando se ne aveva il sentore ci sarebbe stata una sollevazione generale ovviamente no? Perché allora il problema diciamo economico superava la preoccupazione sanitaria, adesso invece per fortuna le cose si sono rovesciate almeno nella gran parte delle persone e quindi la preoccupazione sanitaria prevale insomma anche nelle preoccupazioni del primo ministro. Devo anche ammettere che da questo senso devo fare un outing che quando ho conosciuto insomma per la prima volta questo primo ministro è stato nominato per la prima volta contro primo ministro mi sembrava un po' un coccio di vetro tra cocci di ferro insomma mi sembrava un po' uno messo lì insomma ma di poca presenza diciamo così. Devo invece ammettere che si sta liberando una figura importante quindi che si è dimostrato bravo in questa situazione insomma che si è dimostrato efficace e rifletto anche a cosa sarebbe stata sarebbe stato dell'Italia se non ci fossero state un governo delle persone capaci di prendere in mano le redini della situazione in qualche modo e di creare e di cercare anche di avere una gestione unitaria nazionale di questa cosa soprattutto in mancanza come si lamenta spesso dell'Europa e quindi bravo Conte insomma bravo Conte a fare quello che sta facendo e come dire e a gestire in maniera speriamo il più efficace possibile insomma nei risultati soprattutto insomma comunque nel coraggio anche che ha dimostrato di portare avanti anche queste misure alle quali non penso che non si possa concordare come ho già detto in un altro video insomma in questo momento bisogna pensare a superare questa emergenza poi si potranno ci si potrà porre tutti perché tutte le questioni filosofiche che ci vanno dietro ma il momento adesso è quello di agire per noi tutti quello di rimanere a casa e quindi di evitare di essere fonte di contagio per noi e per gli altri sono crollati alcuni miti metropolitani no che la cosa riguarda solo gli anziani non è vero nei casi poi effettivi ci dimostreranno che insomma sì certo gli anziani muoiono più facilmente perché magari ha con altre patologie insomma c'è quello che si verificava anche per le influenze stagionali no che gli anziani muoiono perché poi precipita una situazione già compromessa ma ma questa non è una influenza stagionale come avevo cercato anche di anticipare io cercando dei modelli insomma quello che ho trovato più vicino a questa situazione era la pandemia di spagnola del 18 e mi pare che i dati stanno andando verso verso cioè la pandemia è stata dichiarata e che il comportamento poi a livello mondiale potrebbe avere dei dei lati di dissomiglianza con questa cosa anche se ovviamente le differenze sono molto sono molto grandi cioè non siamo più nella situazione del 1918 in tanti sensi e non siamo in un dopoguerra insomma almeno qua in italia o in molte parti del mondo però insomma anche quell'epidemia è stato un modello no e si mostra che quell'epidemia non ha avuto una sola fase ne ha avute tre che la seconda è stata più grave della prima che la seconda ha colpito una popolazione più giovane rispetto alla prima ondata e che è durata in tutto insomma per più di un anno e quindi la durata e la durata che ci dobbiamo aspettare secondo me non è così breve e questo un po mi preoccupa perché questo poi il tema che volevo affrontare in questo video insomma la la durata cioè cosa succede in un sistema cosa può succedere insomma in un sistema quando una situazione di emergenza si prolunga si prelunga per tanto tempo no rischiano di essere diversi comportamenti le situazioni man mano che le settimane passano o che passano i mesi in una situazione che che finché dura come questa tende anche ad aggravarsi nel tempo no assistiamo adesso a una curva in cui gli infetti sono sempre di più i morti stanno aumentando e l'impegno delle strutture insomma no di quelli che sono al fronte nei presidi sanitario aumenta sempre di più allora il problema c'è ed è serio insomma che non riguarda soltanto la gestione delle strutture come mezzi tecnici ma riguarda anche la tenuta psicologica allo stress soprattutto alla paura alle condizioni di lavoro di chi è impegnato nel lavoro poi la possibilità che molti di questi possono venire meno anche per piccoli accidenti il caso di napoli di quello che ha sputato su quelli che dovevano fargli il tampone insomma è anche un esempio no come si possono mettere fuori gioco delle pedine importanti quindi semplicemente per i gesti inconsulti che noi possiamo possiamo fare un'incognita è la tenuta è chiaro che insomma i soldati al fronte questi medici infermieri insomma tutti quelli che presidiano gli ospedali in una prima fase c'è anche l'entusiasmo no del dell'atto eroico ma poi interviene la stanchezza intervengono anche le contraddizioni che ci sono all'interno di dei comportamenti che devono essere standardizzati del pericolo di come ognuno vive il pericolo il pericolo che poi anche lui può portare a casa nella sua famiglia quindi anche lui si sente responsabile insomma e queste situazioni di stress poi lavorativo insomma no come come si trasforma e come rischia poi anche di mettere gioco di mettere fuori gioco alcuni operatori insomma è chiaro che non tutti hanno lo stesso temperamento la stessa tempra le stesse forze no soprattutto anche in una popolazione siamo anche la popolazione infermieristica che negli ultimi anni si è anche invecchiata no in tempi in altri tempi molti infermieri andavano in pensione a 40-50 anni insomma no adesso l'età del lavoro si è prolungata 60-65 con l'allontanamento dall'età pensionabile gente più anziana insomma che più anziana è anche più a meno forze insomma fisiche a volte anche meno entusiasmo insomma quindi bisogna fare i conti con lo stress che nel tempo può manifestarsi sempre di più e mettere fuori gioco insomma alcune di queste pedine fondamentali della nostra scacchiera insomma nel nostro sistema di difesa e poi anche lo stress che riguarderà noi insomma che siamo a casa perché per esempio io sono abituato a fare questa vita e quindi abituato a fare questa vita non mi costa niente stare a casa continuo a fare le stesse cose le mie giornate riescono a riempirsi ugualmente perché bene o male queste cose che sto facendo le facevo prima ero abituato stavo prima volentieri a casa ci sto volentieri adesso e quindi cerco di non muovermi dovranno pensare anche forse più seriamente a come rifornire insomma come portare la spesa a casa insomma il sistema ci doveva organizzare perché ripeto questa cosa forse non è destinata a durare un mese ma forse parecchi mesi prima che ci potremmo liberare del tutto da questa situazione perché dietro di noi stanno venendo no a 10 giorni di distanza 8-10 giorni di distanza sta arrivando tutta l'Europa che ovviamente farà il nostro percorso c'è poco da dire insomma loro stanno crescendo come siamo cresciuti noi 10 giorni fa e quindi arriveranno anche loro ai nostri livelli e poi ci sarà l'America che ci sta seguendo anche questa forse appena appena con qualche giorno di distanza in più ma lì non sappiamo non sappiamo poi i dati e la verità dei dati che ci vengono forniti e poi c'è la grossa incognita di altre realtà l'India un miliardo e mezzo di abitanti l'Africa un miliardo e duecento milioni di abitanti con città terribili come come può essere Lagos in Niseria 20 milioni di abitanti che vivono in una promiscuità no? e poi l'America del Sud 620 milioni di abitanti insomma no? tutte realtà che anche loro bene o male danno dei segnali di di contagio e quindi rischiano più o meno di arrivare magari in condizioni peggiori di noi perché meno meno dotate di strutture sanitarie insomma no? queste città immense che non sappiamo come si comporteranno se chi le gestirà avrà l'autorità di intervenire come si è intervenuti in Sina per limitare il contagio il fatto che la presenza nel mondo sia di queste dimensioni e quindi le prospettive che ci siano sviluppo di queste dimensioni ci condiziona dal punto di vista di dell'evoluzione dell'epidemia insomma di quando questa epidemia terminerà quando possiamo quando potremo ritornare a vivere tranquilli senza sospetto e quindi il fattore tempo anche nella nostra dimensione in come siamo costretti a cambiare la nostra vita ma come la nostra vita poi rischia anche di porci di fronte a situazioni difficili da gestire psicologicamente se non abbiamo da dare da mangiare ai nostri figli la cosa ci turba ancora di più insomma no? cominciamo a entrare in una situazione molto difficile da sostenere oltre quella di stare a casa poi la capacità di adattarsi all'inazione insomma alla perdita dei contatti alla perdita della vita comune all'inizio magari può sembrare facile insomma stiamo un po' sul divano ma poi la noia oppure come dire non è una cosa così facile da gestire insomma trapassa facilmente nella nella depressione poi questa incertezza del futuro no? e è un po' il sospetto che cominciamo ad avere no? le nostre relazioni si si riducono no? anche i nostri amici che vedevamo sempre con i quali ci trovavamo adesso non li stiamo più vedendo non ci stiamo più incontrando al di là dei negozi al di là dei commerzi insomma anche proprio la nostra vita di relazione sta cambiando allora se la cosa cambia per una settimana va bene ma quando si prolunga nel tempo per mesi poi ognuno la deve elaborare per conto proprio insomma e anche questa rischia di trasformarsi in un disagio psichico e quindi poi una situazione difficile da sostenere insomma una situazione che va pensata insomma bisognerà trovare anche il modo di appoggiare queste situazioni secondo me se la cosa va avanti nel tempo mesi come mi aspetto che andrà avanti dei mesi bisognerà pensare anche a come intervenire dal punto di vista del sostegno al disagio psichico che si verrà a creare in molti di noi perché questo disagio è anche sostenuto dal fatto che non conosciamo cioè conosciamo ma non conosciamo il nemico che abbiamo davanti sappiamo che si chiama coronavirus conosciamo il nome ma sappiamo poco di com'è fatto sappiamo poco da chi lo potremmo prendere no tutti sono in qualche modo sospetti ma non sappiamo neanche da cosa lo potremmo prendere potrebbe esserci magari nei cibi che mangiamo potrebbe esserci non so potremmo prenderlo toccando la maniglia nel portone del condominio che so io potremmo prenderlo nell'aria che respiriamo passando vicino non sappiamo la cosa è quella che stiamo a casa ma allora a casa dobbiamo anche mangiare potremmo prenderlo magari non so ti portano a casa delle verdure fresche non 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 o le compriamo insomma e in queste verdure potrebbe essere latente insomma qualcuno passando nel supermercato ci può aver stare un tito sopra non lo sappiamo insomma c'è un clima in cui alcune cose rimangono non conosciute perché non conosciamo a parte il nome bene il comportamento di questo nemico che abbiamo davanti il metro di distanza ci basta non ci basta insomma questo genera secondo me un uno stato d'ansia ma anche di più perché poi l'angoscia è quella cosa che viene quando avvertiamo un pericolo ma non sappiamo più non possiamo dare un volto preciso a questo pericolo no potremmo vedere dappertutto e tutti noi abbiamo la stessa struttura mentale per avere la stessa rappresentazione lo stesso immaginario di questo pericolo no anche questa è una situazione che viviamo diversamente però persona per persona certamente le misure che che ci hanno dato a livello di grandi numeri riducono il contatto ma poi noi siamo preoccupati anche del nostro piccolo numero del dell'uno che siamo che sono per esempio no e quindi nel momento in cui sono preoccupato dell'uno sono preoccupato di tutte le possibili fonti di qualsiasi gesto che potrei fare e nel quale mi potrei ammalare e perché sono preoccupato perché in realtà i numeri i grandi numeri quelli che quelli che leggo a livello mondiale per adesso mi dicono che il 3,5% dei contagiati rischia di morire no e perché chi muore soprattutto chi finisce in rianimazione lo aspetta una cosa di grande disagio insomma finire in rianimazione intubati non è un gioco ve lo garantisco e quante sono i tè quanto si resta quanto si rischia di restare in rianimazione pare una ventina di giorni in media poi dipende ovviamente da tanti fattori c'è chi resterà 10 c'è chi resterà 15 c'è chi resterà 25 ma stare 20 giorni in rianimazione intubati a parte il disagio per le strutture sanitarie che devono ricambiare che sono ormai al limite dello stress almeno nel nord Italia però c'è anche il vissuto insomma immaginarmi di finire in rianimazione per quel tempo e e lì cosa potrai morire o potrai in qualche modo salvarmi salvarmi vuol dire che mi verrà tolto il tubo perché il virus colpisce il sistema respiratorio quindi impedisce la il passaggio dell'aria da il passaggio dell'ossigeno insomma dell'anidide carbonica dall'alveolo al ai capillari polmonari insomma il microcicolo polmonare a questo punto però nel momento in cui magari riprenderò a respirare da solo no quando sono stato diciamo in carenza di ossigeno perché per quanto faccia la macchina comunque insomma il luogo dove avviene la perfusione dagli alveoli polmonari al sangue insomma lo scambio è compromesso allora io mi chiedo come come sarà poi il mio cervello che ha bisogno di dieci volte della perfusione di sangue quindi di ossigeno e di glucosio in più rispetto a tutto il resto dell'organismo allora magari potrò riprendere a respirare autonomamente ma sarò ancora come prima? domanda no? chi ritorna da queste cose poi ritornerà nella situazione come era prima anche dal punto di vista cerebrale no? o si formeranno dei danni da ipossia cerebrale non lo so nel senso che non ho esperienza di questo di questa realtà clinica insomma di questa situazione quindi è soltanto un problema che però mi pongo dal punto di vista teorico insomma che dovrebbe essere dimostrato forse lo sapremo avanti quando avremo delle casistiche per poter per poter fare queste queste cose quindi insomma questo pericolo c'è l'immaginario è anche questo insomma no? l'immaginario è di finire in rianimazione diciamo in media uno su dieci dei contagiati rischia di finire in rianimazione uno su otto uno su dieci insomma poi dipende da come da come vengono valutati visti considerati i dati insomma ma ci possiamo fare un'idea che insomma su undicimila contagiati insomma mille possono essere in rianimazione insomma e di queste mille in rianimazione ovviamente dovevamo farci un'idea che alcuni si salveranno e altri invece non ce la faranno e quindi poi abbiamo anche la proiezione no? altre cose di dire sì quando le strutture sanitarie saranno al collasso se se dovessero arrivare al collasso se quindi se questa epidemia dovesse crescere in un certo modo e ci sono anche delle previsioni che fanno pensare a questo un epidemiologa fa pensare che il picco sarà raggiunto a metà aprile quindi ancora più di quattro settimane di questo di questa situazione crescente si riuscirà ad arrivarsi in maniera che le strutture sanitarie tengano o no? e magari ci saranno gli strumenti e magari il personale comincerà a non tenere più bene tutti i problemi che magari individualmente ci poniamo insomma no? e poi dobbiamo anche porsi il problema che non ci dobbiamo ammalare di altre cose perché evidentemente troveremo delle strutture che sono impegnate tutte per il virus e se si capita un'altra patologia questa sarà difficile da gestire per cui dobbiamo tenere duro anche per non ammalarci di tutte quelle altre cose per le quali ci si ammalava e per le quali gli ospedali erano già spesso insufficienti ad accogliersi no? pensiamo ai tempi prolungati di attesa no? per visite esami e ricoveri e a difficoltà di trovare il ricovero già da prima e quindi tutto questo secondo me ognuno di noi lo deve elaborare a modo suo che poi c'è chi lo elabora negandolo c'è chi continua a dire ancora che è tutta una montatura insomma questa del virus non gli auguro che queste magari non diventino le sue ultime parole famose insomma no? perché chi dice questo viene da pensare che si è meno portato a proteggersi quindi a mettere in atto quelle misure che proteggono lui e gli altri dal contagio del virus e quindi secondo me è più a rischio quando uno pensa così pensiamo che la capacità infettante di questo virus è pari circa a due e mezzo nel senso che una persona affetta senza le misure di contenimento diciamo così potrebbe infettarne altre due e mezzo insomma potenzialmente dalle due alle tre persone potrebbe infettare una persona affetta e quindi cosa succederà di tutto questo nel momento nel momento in cui la situazione perdurerà e perdurando poi tutto il contesto della situazione economica eccetera tenderà ad aggravarsi perché ovviamente quando tutto il sistema produttivo eccetera sarà fermo o è fermo è chiaro che tutto diventa più più difficile insomma no? diventa più difficile trovare quello di cui si può aver bisogno in quel momento non mi arrisco a dire cose insomma ma certo che è una situazione in cui tanti fattori agiscono insieme tra di loro e la combinazione di questi fattori è anche un elemento imprevedibile e quindi un altro fattore di ansia no? che ci può prendere anche quando stiamo a casa no? cosa cosa può avvenire no? di cosa ci potrà mancare cosa è anche chiaro che insomma siamo ci sono degli aspetti siamo positivi insomma siamo costretti come si dice insomma a rivedere a rivedere i nostri comportamenti a rivedere anche il senso della nostra vita a rivedere a rivedersi come consumatori di cosa abbiamo effettivamente bisogno e cosa invece erano tante cose che ci sembravano indispensabili che invece si stanno diventando superflue e inutili in questo momento e questo diciamo è l'aspetto positivo l'altro aspetto che potrebbe essere positivo di questa situazione è quello che che dopo non sarà più come prima insomma forse è un momento in cui riusciremo a ripensare il futuro del mondo anche in un modo diverso io spero più umano se non sarà così magari invece che essere un'occasione di come dire di miglioramento sarà un'occasione di magari di un'altra guerra quindi speriamo che invece si porti a rivedere il tutto anche il nostro sistema dei consumi anche quello che sembrava assolutamente bloccato insomma un sistema capitalista che ormai andava per conto suo e su cui non era più possibile agire intervenire solo era una macchina lasciata a se stessa che andava che andava per conto suo magari si mostra si possono aprire in questa in questa visione delle prospettive nuove che prima magari non avevamo se riusciremo a comportarsi con intelligenza forse ci aiuta a ritrovare anche il senso della solidarietà insomma no in questa situazione è chiaro che insomma chi di noi ha maggiori possibilità di di aiutare chi non ce la fa dovrà darsi da fare insomma no anche anche dal punto di vista economico insomma no dovremmo aiutare a fare la spesa a chi non riesce più a farla in questo momento se lo Stato non arriverà dappertutto com'è prevedibile fare insomma dovremmo anche avere una solidarietà più come dire che va oltre il lato economico insomma quella di esserci vicini insomma anche psicologicamente di di sostenersi di non affidare solo perché ci sarà un momento in cui ci sarà bisogno non soltanto di rianimatori e e infettivologi ma anche di di psicoterapeuti di di gente che si occupi del nostro equilibrio psichico insomma che rischia di venerne fuori alterato e allora di non affidare anche solo a loro questo compito insomma ma di potercelo scambiare anche tra di noi insomma cioè di poter essere ciascuno di noi anche un possibile sostegno per per l'amico per il conoscente per che so dire per per gli altri insomma usando una parola generica secondo me tra tra le variabili importanti di questa situazione nuova è il fattore tempo il fattore tempo che mostrerà i suoi effetti a distanza sarà una delle variabili perché poi si aggiungerà a a come evolverà la malattia in questo tempo insomma no se si stabilizzerà se continua ad evolvere insomma e quindi a tutte le preoccupazioni che nel tempo potrebbero e a e a tutte le come dire non solo le preoccupazioni ma anche quello che sperimenteremo man mano che il tempo passa e e noi rimaniamo ancora dentro questa che è diventata una pandemia bene mi fermo qui mi fermo qui un saluto non solo Grazie.